La tanto attesa proroga della voluntary disclosure è arrivata. I contribuenti italiani hanno due mesi in più per riportare in Italia i capitali depositati all'estero. Un argomento che interessa in modo particolare il territorio comasco, fascia di confine tra Italia e Svizzera. Oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che sposta in avanti di due mesi i termini della procedura. Le istanze di voluntary potranno essere presentate entro il 30 novembre, per i documenti integrativi ci sarà tempo fino al 31 dicembre. Tra gli addetti ai lavori qualcuno ipotizzava anche proroghe più lunghe. Tuttavia non è escluso che questa sia solamente la prima dilazione dei termini, come è già accaduto in altri paesi europei. In provincia di Como erano state presentate, fino a poco fa, circa 1800 domande di voluntary disclosure. Ma negli ultimi giorni, a livello nazionale, il numero è quasi raddoppiato. E secondo Sandro Litigio, presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Como, quelle 1800 pratiche rappresentano una minoranza dei contribuenti lariani potenzialmente interessati alla vicenda. Dai banchi del centro-sinistra, intanto, arriva un plauso al governo. Il decreto di proroga fa tirare un sospiro di sollievo a molti frontalieri, ex-frontalieri e loro eredi, che avranno più tempo per mettersi in regola con il fisco italiano, commentano Luca Gaffuri e Alessandro Alfieri, consiglieri regionali del Partito Democratico. Queste persone, che hanno lavorato spesso duramente per una vita al di là del confine, rischiavano di essere considerate a tutti gli effetti degli evasori fiscali.